E poi volevo fare un grazie, volevo dire grazie a questa meravigliosa squadra, loro sono stati veramente forti, quindi dal 17 agosto si sono allenati come forse non abbiamo mai visto qui in questo palazzetto. E ovviamente ringrazio oltre ai ragazzi lo staff tecnico e quindi Gigi Marinelli, Camillo, Sperincheo e Felice Carano. Grazie a tutti. Grazie anche a te Presidente.